30 milioni per l'occupazione. La Regione Toscana mette in campo una serie di interventi per reinserire i lavoratori che in questi anni hanno perso il posto di lavoro e sono rimasti privi di ammortizzatori sociali. Si tratta di risorse che saranno destinate al 70% alle aree di crisi della Toscana. I fondi saranno destinati in tre direzioni. Un percorso di ricollocazione per cui sono previsti 8 milioni di euro da seguire con il centro per l'impiego o una agenzia accreditata, una indennità di partecipazione per il lavoratore stesso pari a 500 euro al mese per un massimo di sei mesi e un incentivo al datore di lavoro per un totale di 7 milioni. Al piano presentato dal Presidente della Giunta e dall'assessore al lavoro contribuiscono fattivamente IMSS e Agenzia Nazionale per il Lavoro. Vi si potrà accedere dal 6 marzo recandosi direttamente ai centri per l'impiego regionali. Grazie a tutti.